Salve a tutti i giocatori e benvenuti in un nostro nuovo video Profile con alcune aggiunte budget per migliorare Dark World Allora ci sono delle soluzioni un po' più economiche e alcune un po' meno Però ovviamente nel complesso vi faccio vedere come funziona sia nella versione più economica che nella versione un po' più dispendiosa Prima di iniziare come sempre vi invito a scrivere il nostro canale per rimanere sempre a Giornati del Mondo di Yuke Non solo grazie mille, piccola premessa per il 6 deck Nel 6 deck ci sono alcune carte che potreste mettere effettivamente di side facendo 3, 3, 3 ecc Voi le vedete in 2x perché mi serviva spazio per farvi vedere altre carte Quindi è sia side ed è sia esplicativa per altre carte Allora andiamo a vedere la lista 2x di Rainbow e 2x di Grafa perché in questo mondo non sono per nulla pesanti Il 2x di Silva e il 3x di Snow Il 3x del nostro terraforming con i piedi Il famosissimo terraforming con i piedi Il 3x del nostro Braw Il 3x di Seruli che potreste mettere anche a 2 se volete il Braw e il mazzo da 40 1x di Beige che ora è più utile la sua evocazione special Prima magari nel 3x era un po' inutile perché non si poteva sfruttare al meglio il suo essere livello 4 Quindi ora che abbiamo i nostri Xyz possiamo sfruttarlo Bigfoot, 2x, 1x di Thunderbird, il 2x di Mothman, l'1x del Tsuchinoko, il 2x del Chupacabra e il 3x del Nessy Perché il Nessy comunque è praticamente il più forte e poi ha anche oscurità quindi perfetto Io devo dire che questi sono quelli con cui mi sono trovato meglio Il fatto che vabbè tutti oscurità ok Poi il buono del Chupacabra che è anche demone quindi al limite te lo puoi rimuovere anche per la terreno ed è sempre comodo Di più mi stonavano tantissimo e ho preferito metterli così e mi ci sono ritrovato molto bene 2x della magia fusione che comunque male non è si potrebbe mettere anche a 1 perché alla fine non è essenzialissima Però non lo so non è mi sia piaciuta tanto in 1x il 2x sempre della magia continua che è molto molto utile Anche qui potreste magari togliere uno di lei, uno di lei, un altro Seruli e mettere il 3x di Super Poli di Main Oppure il 3x di Dark Ruler oppure il Virus oppure Skill Drain Comunque le soluzioni sono diverse e potete usare quella che più vi soddisfa insomma Il 3x della terreno, il 3x di Allur e qui tranquillo tranquillo un colled che io mi metterò sempre nei mazzi Perché è sempre utile anche perché magari quella volta in cui ti possono negare degli effetti Che ne so tipo Rainbow, che ti fa l'aggiunta, che ti serve Oppure magari uno stupidissimo, non so, una stupidissima end trap che però ti blocca praticamente un po' il gioco Secondo me un colled è sempre utile averlo Poi andiamo a vedere le soluzioni di Extra Deck Perché ci sono delle carte che non ho messo nell'upgrade esclusivamente perché mi sono ricordato dopo che Mi sono ricordato dopo che ci fossero queste carte Allora io qui ho messo il 2x di Grafa Ok Numero 38 che è sceso tantissimo nei cavaggi forti Dweller che blocca dei mazzi da solo Bagusca che è sempre Bagusca Poi a Pollusa se volete magari È dato una sola vi serve Quindi se volete magari spendere quel Che ne so quanto costa 10 anche di meno Quel piccolo investimento per una carta singola Ci sta Sai Yusha che mi fa il Pesco 4 Il Pesco 4, 23 nel mazzo Però quel Pesco 4 È tanta roba Vabbè la Underworld Goddess è qualcosa di strepitoso Molto molto forte Tanto avete sempre 4-5 mostri tranquilli sul terreno Quindi 2 Nightmare Fenice E Unicorno All'inizio potete mettere anche Cerbero Se ce la avete Se volete qualcosa di molto budget Non l'ho inserito perché comunque non è che Sia Focale fondamentale Ci si può fare anche a meno Tanto gli spacchino Oviate Dark E McRagher Allora questi due Allora McRagher capisco che potrebbe costare un pochino Quindi magari invece di mettere lei O a Pollusa O forse Dark Si potrebbero mettere Zombie Sign Perché è un negate veramente forte Che vi fa scartare dalla mano Cioè vi fa mandare dalla mano al cimitero E nega una carta scoperta Quindi fa da neghino È un grandissimo abitone Che può anche negare Nelle occasioni di emergenza Potrebbe essere veramente risolutivo Ci può essere anche un numero 68 Che impedisce di evocare specialmente dal cimitero Magari Lo fate nel turno dell'avversario Oppure si potrebbe inserire un levier Che ci fa regolare i mostri Che abbiamo rimosso con il cancello Magari con Allora of Darkness Ve li rigiocate O E così ve li potete riprendere in mano Con gli effetti di magari di Rainbow Graph Oppure ci fate direttamente X is Link Quello che volete Secondo me sono delle soluzioni Che potrebbero starci A posto della McGrager Che lei è molto forte Perché comunque ci fa evocare Un demone dal cimitero E poi ci fa scartare una carta alla mano Questo però ci locca Perché ci fa evocare specialmente Soltanto mostri Soltanto mostri Mostri tipo demone Quindi un po' Ci può Ci può loccare Quindi È forte Però Si potrebbe anche togliere Tra l'altro Non possiamo utilizzarla come materiale link Quindi è una carta che ci può stare Ma Se proprio non ce l'avemo Non è che ci mettiamo a piangere E poi qualche target di Super Poli Per qualora La giocaste Per chi ce l'ha Per chi non ce l'ha Perché alcuni non ce l'hanno Quindi Se non avete questi tre Magari mettete A posto di lei Un Cerbero Mettete Si due Magari un altro rank 8 Che è vita Che è un 107 Un qualsiasi rank 8 Magari Che quando attacca In battle Fa roba Oppure magari un borrero Di quello che volete Comunque le soluzioni ci stanno E andate tranquilli Poi Abbiamo Di sai Dark World Puppet Che rimuove 3 Molto buono Lei che è un nechino di evocazione Vabbè Dark Ruler Non Mor Super Poli Skill Trainer Shifter Manco un pocefermo Manco un pocefermo E poi I due virus Che possono essere utili Vedete Perché Magari Uno può mettere Che ne so 3 super poli 3 skill drain 3 Allur 3 di lui E poi Il 3 per Di qualche virus E leva Le altre carte Che sono rimaste Comunque le soluzioni ci stanno Mi sono trovato Particolarmente bene E l'uniche carte Che mi mancano Per portare La versione cartacea Credo Di main Sono in essi Di extra deck Mi manca Tanta roba Cioè mi manca tanta roba In realtà mi manca La goddess Apollosa E la Mack Rager Quindi Cercherò di E vabbè Zombies Non ce l'ho Vedrò Che altro Posso fare Per portare Una profile Forse anche Un po' Diversa Perché così Abbiamo Diverse profile Per diversi tipi di gioco Detto questo ragazzi Fatemi sapere voi Cosa ne pensate Noi come sempre Ci vediamo Nel prossimo video E un saluto a tutti E un saluto a tutti E un saluto a tutti